Leggendo quello che sta succedendo in questi giorni ci siamo non meravigliati, nel senso era una cosa che ci aspettavamo, anzi, come la procura sta facendo un lavoro pazzesco, approfonditissimo e speriamo che si concluda al più presto per poi iniziare a fare veramente chiarezza su quello che è successo in quei giorni. Man mano che si scava all'interno delle carte dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano affiora un quadro desolante che alle tinte dell'impreparazione della superficialità, regione, prefettura, provincia e comune, al di là delle eventuali responsabilità penali che sono tutte da accertare, sono sicuramente gravate da responsabilità politiche legate ad un'emergenza gestita male nei giorni in cui sull'Abruzzo si è abbattuta la tempesta perfetta. Il combinato di sposto di maltempo, sisma e mancanza di elettricità però non possono costituire un alibi per chi invece avrebbe dovuto agire ben prima che si verificassero gli eventi calamitosi. La carta delle valanghe doveva infatti essere pronta anni prima, invece arriverà solo nel 2020 se tutto andrà come previsto. L'albergo, secondo i periti della procura, non doveva essere lì e in redazione all'emergenza doveva essere sgomberato almeno due giorni prima. Ma la lista delle inefficienze è lunga, con l'allerta Meteomont rimasta lettera morta all'interno di un'email, con gli SOS arrivati in prefettura sottovalutati e con la macchina dei soccorsi, secondo quanto scrivono i magistrati pescaresi negli avvisi di garanzia ai 23 indagati, partita quantomeno in ritardo. Per non parlare poi del giallo sui nomi delle 29 vittime, con persone prima date per vive in procinto di essere salvate, poi invece scoperte essere decedute sotto il peso della slavina, vedi la storia di Stefano Feniello e della sua famiglia. Una responsabilità quantomeno morale in capo all'allora prefetto Francesco Provolo, che stava gestendo e coordinando le operazioni dal campo base di Penne. Tra qualche giorno ci saranno gli interrogatori di garanzia, in successione sfileranno tutti gli attori di questa triste vicenda davanti ai magistrati e sotto gli occhi del Comitato delle Vittime di Rigopiano, che dal giorno successivo a quel maledetto 18 gennaio chiede chiarezza e giustizia. Da parte loro è stata espressa più volte piena fiducia nel lavoro della magistratura e nella sua capacità di rendere giustizia alle vittime della slavina discesa dal Montesiella. I procuratori, il procuratore Serpi e il sostituto procuratore Papalia, come anche ha detto Marco, stanno facendo un ottimo lavoro. Noi per i nostri cari vogliamo giustizia e verità. C'è un processo in corso, la settimana scorsa sono usciti questi nuovi 23 avvisi di garanzia e noi lasciamo lavorare la giustizia. Abbiamo piena fiducia nella magistratura e in tutte le forze dell'ordine che stanno operando in questa triste vicenda. Quando verranno messi a processo parleremo di queste persone. Fino ad allora lasciamo parlare e lasciamo lavorare soprattutto la magistratura.